Questa attraversata del mar di Galilea sulle acque camminando di Gesù ha molti significati. Uno che viene in mente non immediatamente ma è quello che getta il collegamento tra Gesù e Mosè. Già nella prima lettura abbiamo il dono della manna e la gente che si lamenta che vuole la carne. E la manna è un prodotto specifico creato da Dio per loro solo per il tempo della loro attraversata nel deserto. Che indica la sua potenza su tutte le cose create e esistenti e su quelle nuove che gli vuole creare. Al tempo stesso vuole abituare il suo popolo a non essere legato alla soddisfazione del cibo, la sicurezza, la vita del mondo. Noi siamo maestri in questo, ma a mangiare per sopravvivere, non vivere per mangiare. Ed ecco che questa popolazione dice siamo nauseati di questo cibo così leggero. Il cibo serve per l'attraversata del deserto, non serve stare nel deserto per mangiare. E noi viviamo per mangiare. Questo qui sembra avere tante soddisfazioni, in realtà non solo ci lega sulla terra, ma ci impregna con la terra e fa morire dentro di noi la voce dello Spirito. Il cibo leggero della manna è un allenamento per avere un popolo che è nutrito dalla parola di Dio. E lo dice Gesù. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, lo dice il demonio. E poi quando si trova col dialogo con la samaritana, i suoi dicono vuoi mangiare? Ho un cibo che voi non conoscete, che è il fare la volontà del Padre e salvare le anime. Dunque questa leggerezza e questo moto, questo movimento nella vita terrena ha bisogno anche di staccarsi dal senso, dal gusto, perché per quanto piacevole possa essere ci lega alla terra. È inevitabile. Se noi vogliamo elevare la mente e lo spirito, dobbiamo fare un digiuno. E' sempre così. E' un fatto, è un fatto che anche altre culture riconoscono, non è solamente. E' un fatto che ha la sua radice nella realtà di come siamo fatti. Nella traversata del lago di Tiberia o di Genesare, viene chiamato così a seconda della sponda che tocca il lago, o di Galilea, Gesù camminando sulle acque fa questo prodigio dopo che ha fatto il miracolo della moltiplicazione del pane e del pesce, il cibo materiale, dopo che per tre giorni la popolazione lo ha seguito in luoghi deserti, dove non c'era nulla da mangiare, ma era sfinita. Provvede, come al tempo di Mosè, quel tanto che basta, perché non sapevano dove andare. Cammina sulle acque, e i motivi sono tanti, mostra la sua potenza, senz'altro, ma mostra qualcos'altro. Le acque, il mare, sono sempre il segno del male presente nel mondo, in tutta la simbologia dell'Antico e del Nuovo Testamento. E il mare è quello che racchiude i prigionieri del male. Pensate al Mar Rosso che si apre e lascia passare il popolo di Israele, che Dio vuole salvare perché gli è fedele, e si richiude e dunque uccide tutti il farone e il suo esercito, che si ostinavano contro la volontà di Dio e contro il popolo di Israele per tenere gli schiavi e per ucciderli. E qui Gesù non cammina sul fondo delle acque dividendo il mare, ma cammina sopra, come dire, cammina su quello che è l'elemento di morte e che rappresenta anche il nostro battesimo. Una parte di noi deve morire, o se vogliamo deve essere mortificata. Le mortificazioni del cibo sono una delle cose molto importanti. E lui cammina sopra le acque calpestando, senza essere soggetto alla forza di morte delle acque, cammina come se fosse un lastricato e permette a Pietro di camminare sullo stesso mare, come se fosse un essere sopranaturale. Come a dire, se voi avete fede e fiducia in me, potete camminare nell'eserto 40 anni e nutrirvi solo di manna ed essere un popolo forte che segue la mia voce. Altrimenti diventate coloro che si lamentano e Mosè dice, non ne posso più. Potete diventare persone che calpestano la natura bassa, umana e signoreggiano con lo spirito. Sedate la mano a me con la fede e con l'amore. Se voi camminate con me schiaccerete leoni e draghi, dice un Salmo 90 o 91. Sulle loro mani ti porteranno gli angeli perché non inciampi il tuo piede nel sasso. Come dire, sarai sempre sostenuto in modo soprannaturale su quelle che sono le vicende del mondo che sempre tendono a tirarti giù, ad invischiarti. Perché quando siamo invischiati diventiamo parte del mondo. Allora riusciamo a viaggiare su questo mondo senza essere parte del mondo, senza essere uccisi nello spirito dalle cose di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo, lo dice Gesù il Cristo. Altrimenti i miei angeli, i miei servitori avrebbero combattuto per me. E poi quando fa la grande preghiera al Padre nel Gezzemani, prima di essere preso per essere crocifisso, egli dice affide i suoi, dice i miei, li ho scelti, sono tuoi, li hai dati a me, io te li restituisco, nessuno è perduto fuorché il figlio della perdizione, cioè Giuda che voleva andare per fatti suoi contro il Cristo, sono nel mondo, ma non sono del mondo. E l'immagine del camminare sulle acque è la nostra. Facciamo le stesse cose di tutti gli uomini, ma non nel male. Camminiamo come tutti, fatichiamo come tutti, ma non invischiati nel male, nell'odio, nel rancore, nella rapina, nel furto, è tutto quello che c'è e soprattutto noi camminiamo su questo mondo per entrare nell'altro. Gli altri camminano qui per rimanere qua, su questo mondo, invischiati. La tentazione è dentro di noi come quello del popolo di Israele. Si lamenta, vogliamo la carne, gli darà le quali, gli accontenta e poi li punisce. Perché non è così che si cresce. Si cresce spiritualmente camminando leggeri in questo mondo, lasciando le cose del mondo qui dove sono e lasciandosi legare il meno possibile, sempre più liberi, sempre più liberi. Diceva San Giovanni della Croce, un passero, per trattenerlo dal volo, non ha bisogno di una catena, basta un capello legato alla zampina e già non vola più. Quindi noi, piano piano, con la grazia di Dio, possiamo camminare sempre più liberi, togliere tutti i legami che ci legano qua, avendo come orizzonte la terra promessa che il Cristo ci indica, che è il suo regno e non le cose di qua giù. Sielo dato, Gesù Cristo. Grazie. Grazie.